Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlight Sub, nuovo video dedicato alla undicesima e ultima stagione di The Walking Dead. Come potrete notare ho messo il fanco di Daryl, perché a questo giro devo dire che se lo è meritato. Oggi appunto vi parlo dell'episodio che è andato online su Disney+, perché vi ricordo per l'ennesima volta che adesso Sky non trasmette più The Walking Dead, ma è un'esclusiva Disney+, infatti potete trovare oltre all'undicesima che sta venendo pubblicata ogni settimana, cioè ogni lunedì mattina, un nuovo episodio di questa ultima stagione, potete trovare anche le prime dieci, quindi di conseguenza smettetela di... Io vedo pagina a cui viene chiesto ma Sky non va più? No ragazzi, sono già quattro settimane, quasi un mese, che Sky non trasmette più The Walking Dead su Fox, perché? Perché c'è stata una questione di vendite e quant'altro e quindi adesso tutti i diritti sono di Disney+, il mio consiglio è fatevi un abbonamento congiunto, almeno per la durata della undicesima settimana di The Walking Dead e poi decidete cosa fare, fatevi un abbonamento in più persone, dividetevelo e è l'unico modo in cui potete vederlo, diciamo, legalmente. Se poi volete appoggiarvi a metodi un po' meno legali, quelli sono problemi vostri. Io ho l'abbonamento a Disney+, per me, come ho detto, è tutta una fortuna perché perlomeno adesso posso fare tutto il lunedì e non devo aspettare che la Fox lo trasmetta il lunedì sera e poi fare tutto il martedì. Faccio tutto con un giorno di anticipo, quindi per me va più che bene, anche così. Oggi parliamo appunto dell'episodio 4, ovvero interpretazione, tradotta così un po' alla lettera, all'italiana, che vedeva che è appunto Daryl Concentrico e io avevo già preparato tante di quelle madonne che è San Marco Levati dopo aver visto lo sneak peek e dopo aver letto la Sinossi. Perché? Perché segna il ritorno di colei che non deve essere nominata, per quanto... come l'abbiamo soprannominata su Karel Italia, link in descrizione, anzi io dire il vero l'ho soprannominata Cagna Maledetta, Boris citazione, non è un'offesa assolutamente, però per essere più ducata l'abbiamo soprannominata colei che non deve essere nominata che manco Voldemort, ovvero Lia che era apparsa nella 10x18 che per noi, non soltanto per noi Karel romantici o meno, ma proprio per tutti i fan di Daryl, compreso anche le mie amiche Irene, che proprio a livello romantico non gliene frega assolutamente niente né della Karel né comunque della vita sentimentale di Daryl in generale, non aveva un fottutissimo senso di esistere. Qui ricompare, appunto, l'episodio si apre più o meno come l'inizio del terzo, se vi ricordate nel terzo Daryl si era separato dal resto del gruppo durante l'attacco e aveva inseguito in solitario un metitore insieme a Kane. C'è questo piccolo scontro, un po' con delle chocslem e tutto il resto in cui vedevo appunto il povero Kane, che qui non ho messo, adesso poi vi spiego perché, venire, poverino, sollevato di peso e buttato, non si capisce bene dove, con Daryl giustamente che parte subito alla ricerca e vediamo questo mietitore molto longiligno, chiaramente femmina, che ha questa maschera rossa con una striscia bianca con gli occhi spallancati come per dire che cazzo ho appena visto. Daryl si cosparge appunto di sangue divagante ed è vaga alla ricerca di Kane, nel tanto vediamo appunto questo mietitore femmina che si aggira e guarda a destra e a manca. Vediamo poi Kane fermo proprio accanto a questo mietitore e scopriamo che non è niente di meno che Lia e noi infatti lo avevamo detto quando abbiamo fatto appunto la live della 10 per 18 che ce l'aspettavamo un po' che tornasse, anzi lo speravamo e le speranze sono sempre l'ultima a morire, spero ovviamente che vada come abbiamo previsto perché sennò ci incazziamo, che sarebbe tornata come mietitore perché appunto aveva parlato di ex militari, avevamo fatto vedere questo tatuaggio, ho fatto apposto perché l'attrice non ce l'ha, è chiaramente militare, avevamo fatto mille congetture, avevamo pensato magari che ci facesse passare dal Commonwealth, però siamo contenti di vedere che abbiamo avuto ragione tornata come mietitore e la cosa che appunto ci è piaciuta soprattutto e che me l'ha fatto finalmente rimettere sul tavolo è che quando vede Lia e questa è una cosa che ha detto anche la Kang, Daryl non pensa subito oh mio dio, finalmente torno a scopare, no assolutamente, la vede come per dire cazzo mietitore posso sfruttare questa cosa a mio vantaggio, cioè non è sollevato nel vederla, non è felice, è come che posso dire, è ritroso, sta sulle sue, insomma sta sul chi va là e questa cosa mi è piaciuta tanto perché io avevo una paura fottuta che sfruttassero quella cosa che è successa nella 10 per 18 perché vi ricordo che quei due hanno trombato per 10 mesi, cosa completamente no sense, non per il fatto che Daryl abbia trombato ma è stata proprio come l'hanno gestita in quell'episodio, ma noi ce ne vogliamo dimenticare lasciamo stare, anche perché qui devo ammettere che la scrittura ci ha dato delle spiegazioni un po' più chiare e concise su quello che era il loro rapporto e soprattutto come è stata la storyline di Lia, devo ammettere che questo episodio che è stato scritto dalla stessa della 10 per 18, infatti io continuo a pensare che forse quando ha scritto quell'episodio era sotto effetto di droghe pesanti, invece qua devo dire che è stata brava perché appunto Daryl viene preso, giustamente lei gli punta il fucile e poi cane traditore, perché non l'ho messo qui? perché ho fottuto un traditore, quella lì se n'è andata, l'ha abbandonato è stato con Daryl per anni e appena la viene torna subito da lei cane, batte la stravaffanculo, un traditore di merda il cane di John Wick non l'avrebbe mai fatto impara cane, impara comunque giustamente viene preso viene preso e torturato anche sia da Lia che da altri Rippers altri mettitori, Daryl gli dice guarda che io sono tornato per te però tu l'hai già andata via, mi dispiace che sei finita con questa gente, questa gente è la mia famiglia questo appunto ci fa capire che, anzi ce lo dice proprio, che Lia faceva già parte dei mettitori quando ha avuto una relazione con Daryl però si era separata probabilmente si erano separati e poi loro l'hanno ritrovata e lei è andata con loro nel momento in cui Daryl se ne è andato per l'ennesima ricerca del corpo di Rick per poi tornare e non trovarla più e noi siamo stati felicissimi di questo quindi c'è appunto questa tortura con lui che ha la testa dentro un sacco e loro che fanno tipo quelle torture che facevano con la cana dell'acqua loro si arrangiano con quello che hanno con questo secchio d'acqua e questo sacco di iuta però qua Daryl davvero mi è piaciuto perché le mente spudoratamente lei infatti lo ha visto insieme a Maggie e company però dice dov'è la tua famiglia quella di cui mi hai parlato e Daryl qua se la gioca bene perché dice la mia famiglia ha combattuto contro chi non doveva tanto tempo fa quindi penso che si riferisca anche ai sussurratori che è da solo e tutto quanto lui continua a dire io non ho niente da dirti non so niente non so niente e se l'ha intorta per bene per questo l'ho messo su perché ha gestito veramente bene la situazione perché poi scopriamo poi lo portano in cella gli altri meditatori non sono molto d'accordo per quanto pare i meditatori sanno chi è lui ha praticamente raccontato tutto a quanto pare sanno chi è sanno quello che è successo tra loro e tutto quanto infatti gli dicono guarda che non dovevi riportarlo qui lei ma no so quello che faccio proprio in vera e scopriamo che nella cella a fianco c'è Frost che è uno degli amici di di Maggie che appunto lo vede lo riconosce gli chiede come stanno gli arti tutto a posto e Daryl si inventa proprio una storia proprio ma ad hoc gli dice non me ne frega niente di te anche se abbiamo mangiato insieme non me ne frega un cazzo dei problemi che avete con questa gente ma con lo sguardo fa capire a Frost reggimi il gioco perché siano qua ci ammazzano entrambi e infatti poi Frost sta al gioco giustamente non dice chi è lui non dice assolutamente niente e poi appunto lei prova ancora a intortarsene tutto dimmi la verità non mi mentire proprio in papira lui dice guarda che io non ti sto mentendo non ti ho mai mentito proprio se l'ha intorta usa questa fiducia che lei comunque ha in lui ancora per cercare di farsi liberare o perlomeno cercare di salvarsi la vita io non ti ho mai mentito sono tornato per te se sapessi qualcosa te lo direi proprio convinto dammi cane che me ne vado lei si è sicura che sia quello che vuoi poi arriva un altro mentitore che mi ricordo uno con i capelli quello che ha lottato con Daryl con la maschera da teschio bianco che gli dice che hanno trovato un superstito e un corpo quindi purtroppo anzi purtroppo vaffanculo uno dei loro purtroppo è morto e si vede comunque che questi qua e questa veramente è una cosa che mi ha fatto un pochino cascare le braccia sono dei cazzo di fanatici religiosi stiamo veramente esaurendo la fantasia perché questa cosa qua è già accaduta in Days Gone infatti poi vediamo loro che pregano sul corpo di questo popolo disgraziato lì a che piange perché comunque un suo compagno non proviamo nessun tipo di empatia hanno fatto bene a farlo fuori siete dei cazzoli assassini dovete morire male e vediamo arrivare a quello che dovrebbe essere il leader di questi meditori ovvero Pop io non me la sento di chiamarlo Papa il Papa è Papa Giovanni quel che l'è quello che chiamiamo Pop che è praticamente Boboskins quando ha fatto Super Mario invecchiato come si è diventato invecchiato arrivato con Wish non lo so non è che mi abbia a livello di fisicità non è che mi abbia detto niente però devo dire che l'attore non è male ci sono ho visto di peggio ho visto molto di peggio ma anche questo è un altro fanatico religioso e io qui l'ho detto anche nella live anzi adesso quando lo dirò nella live che faremo mercoledì questa settimana perché voi state guardando appunto anzi stasera se sto calcolando ben i tempi la faremo stasera quindi vi aspetto sui caratteristiche la link in descrizione la dirò anche lì sembra il colonnello di Days Gone quello di Wizard Island come si chiamava? il colonnello Garrett è lui felicitazioni felicitazioni religiose e il fuoco il fuoco ci purifica uguale io se fossi la band studio farei due domande agli autori della MC perché secondo me qua c'è stato un po' leggerissimo problema di copyright poi vabbè comunque che questi sono degli ex militari e tutto quanto sono a quanto pare scopriamo poi lei va a parlare con Daryl e tutto gli va a sfogarsi diciamo col suo ex fidanzato non riesco a dire quella parola fa troppo male dicendo che appunto hanno trovato uno dei loro morto che era come un fratello per lei che non aveva mai sofferto così tanto nel perdere qualcuno a parte quando ha perso lui lui cerca ancora di intortarsela guarda che non mi hai perso sono tornato ma te ne vi già andate lei gli lancia una frecciatina mi hai lasciato ti ho chiesto che cosa volessi e invece te ne sei andato via e in quel momento le avrei voluto rispondere così tu non gli hai chiesto che cosa volessi tu gli avevi dato un fottutissimo ultimato quindi Lia perdonami devi solo stare zitta e qui Daryl ancora che si era intorta di dire ci ho avuto paura di perdere tutto per quello che sono andato via non è vero secondo me non è vero sicuramente probabilmente anzi sicuramente lui si è andato via perché aveva capito che questa non era la persona almeno io voglio sperare che sia così perché sennò veramente mi incazzerei come un bufalo a capodanno se i bufali si incazzano a capodanno comunque si lei poi gli dice tanto non avrebbe funzionato comunque non avremmo mai potuto essere felici in questo mondo insomma una serie di manfiere di cui non ci importa e papin papinale con cui dice il mio capo è arrabbiato per Turner che è quello che è morto devo dargli qualcosa anche piccolina perché voglio aiutarti perché non so di tutto tengo ancora a te e questo dialogo è molto ambiguo perché da una parte non capiamo se lì è veramente sincera e quando dò Daryl è un menzognere provetti infatti sei stato bravo bravo bello de mamma è stato bravo quindi faccio i complimenti ero convinta infatti tutti erano convinta di vedermi incazzata per questo episodio invece no invece questo episodio ci ha dimostrato che la chiave per sistemare Daryl ce l'hanno a portata di mano gli sceneggiatori non farlo più essere un cazzo di gregario perché qui è da solo e agisce porca puttana bene perché se l'ha intorta un po' gli dice che c'è una donna al comando che c'è un tipo alto e mago che non stava mai zitto e quella è niga la donna è Maggie poi c'è un prete con un fucile che è Gabriel che sono loro al comando e che sono tanti che sono tante persone ed effettivamente cioè se tu unisci il gruppo se li univi comunque il gruppetto di Maggie Negan Gabriel e Elijah e Daryl e ci metti anche quelli che sono rimasti da Alexandria insomma diciamo che potrebbe essere un compattimento d'armi pari però Daryl fomenta fomenta di più la cosa e gli fa sembrare dei bastardi come se fosse guarda che quella gente è cattiva sono degli stronzi sono anche peggio di voi quindi bravi ma cazzo ma che bravo ma che bravo ma veramente io gli ho fatto l'applauso era tanto veramente che non non vedevo Daryl cioè è da solo nessuno che gli rompe i coglioni e lo condiziona ed ha agito bene infatti lei si scioglie gli dice adesso ti faccio uscire di qui così stai più comodo va da Pop che ci viene mostrato insomma che comunque lei e Pop hanno un legame molto forte insomma tutto questo gruppo praticamente erano dei mercenari che si sono erano dei soldati che combattevano nella stessa squadra poi si sono messi in proprio io dei mercenari non sono così andatevi a vedere i figli di Espendable quelli sì che erano dei mercenari c'erano quei un culo grosso così facevano puttana bestia comunque certo se Pop era un mercenario porca puttana allora Jason Statham che cos'è una macchina da guerra comunque lungi da me giudicare comunque si hanno questo dialogo in cui comunque Pop non è molto convinto della capacità di giudizio di Leah dice un po' che sembra che abbastanza ossessionato dal legame tra lei e Deryl perché dice io vedo che ti vuole solo entrare nei pantaloni ma dove mi sono persa una scena c'è una scena tagliata probabilmente la faranno vedere poi nei contenuti speciali dei DVD perché io questa cosa sinceramente non l'ho vista o se l'ho vista forse Deryl è stato veramente bravo non lo so lo vedo solo un uomo che non riesce a smettere di guardare chi ama e lei dice non ho mai detto che mi amasse infatti non ti amava dieci mesi dieci mesi siete stati insieme dieci mesi in cui andava e veniva andava e veniva andava e veniva scopava andava scopava cosa cosa stiamo parlando non era amore era Durello era solo Durello Durello e solitudine comunque lei se lo intorta abbastanza a questo popo e dice guarda che mi fido come ci possiamo fidare potrebbe essere un ottimo l'evento per la nostra squadra siamo sotto organico giustamente abbiamo perso uno e altri due sono dispersi che sono quelli che credo abbiano attaccato Maggie al centro commerciale Maggie e Alden e Papin Papera insomma lui dice ok voglio vederlo con i milano che quindi preparano in questa capannina dove l'hanno torturato l'incontro con Popi in cui questi tre lo prendono anche per il culo dicendo Shaw non è la fidanzata di nessuno ecco e poi un'altra cosa che voglio dire un'altra cosa sarà una stronzata ma voglio dirla questa qua la chiamano Shaw che penso sia il suo cognome come Deckard Shaw di Hobbs & Shaw di Jason Statham a me che abbiano dato a quella cagna maledetta qual è che non deve essere nominata il cognome del personaggio di Deckard Shaw che è il personaggio che ha portato linfa e vitalità nella saga di Fast and Furious insieme a Hobbs infatti nel 9 si è sentita tanto la mancanza di Shaw e di Jason Statham soprattutto a me mi fa incazzare e quell'altro che sembra con una logarit di Days Gone a quella ha dato il cognome di Shaw di Jason Statham abbiamo messo avuto le idee si vede si vede puttana bestia comunque vabbè quella è una stronzata mia è una roba mia mi da fastidio mi da fastidio il mio Jason io adoro Jason Statham io lo adoro e non me lo devono non potevano io spero che non sia una parente alla lontana se veramente comparisse Jason Statham che prenda calcio nel culo questa che magari è una sorella illegittima io volo impossibile perché Jason Statham non costa troppo per la MC comunque vabbè lei appunto arriva li mette tutti in riga perché comunque lei deve essere il secondo in comando quindi diciamo che un pregio che si può dare a questa vacca scusate è che comunque è tosta anche perché è l'unica donna è l'unica femmina quindi giustamente ha le palle e le tiene tutti le tiene tutti a comando tutti al loro posto appunto lei gli dice che Pop sta arrivando lui le chiede devo sapere qualcosa di lui prima che arriva a un certo punto lei fa per aprire la porta della capanna ma non si apre si vede che stanno gettando penso benzina o comunque combustibile e la capanna prende fuoco loro sono intrappolati cercano di uscire si aiutano a vicenda perché giustamente sono in una situazione in cui stanno per bruciare che manco fuoco assassino riescono a collaborare e riesce ad aprire un varco a rompere una finestra che grazie all'aiuto di Lia insomma si impegnano ci riescono insieme e vediamo che appunto sono tutti davanti loro escono sono tutti davanti alla capanna lei poi anche si unisce al gruppetto e vediamo Poop che guarda Daryl come se fosse per me aveva il durello lì sotto perché lo guarda veramente come se fosse un infatti dice forgiato dal fuoco scelto da Dio io ho pensato minchia proprio il colonnello Garrett e allora io ho pensato dentro di me questo qua deve aver visto troppo spesso fuoco assassino e mi sono anche domandata che cosa sarebbe successo se Pop avesse visto Kurt Russell ve lo faccio anche vedere oddio è bellissimo ecco secondo me sarebbe andato esattamente così infatti poi dice accoglietro loro dicono fortitudo saludis e lui che li guarda tutti come per dire è allo sguardo incazzato quindi vediamo un po' il Daryl dei vecchi tempi ma anche nella sua testa minchia li ho fuffati tutti io almeno spero che sia così spero ovviamente che non gli faccio non lo rendano uno squillibrato io c'ho paura per questo arco narrativo di Daryl ragazzi non so se si intuisce ma ho una fattuta paura nel mio corpo perché sono partiti bene io so che Daryl non potrà mai diventare un villain ma che non gli facciano fare cazzate hanno in mano un arco narrativo potenzialmente buono potenzialmente da risurrezione di questo personaggio che non facciano cagate comunque lui viene portato al cospetto del papa che gli offre da bere lui appunto lo affronta a testa alto superato il tuo piccolo test no tutto questo e lui gli fa un po' dei discorsi un po' proprio da da pazzo psicopatico parlando appunto del fatto che la loro vita parla un po' della loro vita mercenaria che si sa che comunque non è mai facile papim papere insomma un po' di roba che non sto neanche a dirvi e poi torna con lo sguardo da rapato quando parla del fatto che sei uscito da quel fuoco indenne senza cicatrici senza ma quello non si chiama essere stato uscito da dio quello si chiama Buse del Kew in francese ha avuto culo che è riuscito ad aprire un cazzo di marco ma stiamo scherzando ma che cazzo di problemi ha quest'uomo no veramente lo guarda come se dammi un figlio ti promettimi incinto ma veramente ma che cazzo di problemi ha io dicevo questo qua certo che è uscito indenne dal fuoco ha avuto culo non perché è stato scelto forgiato dal fuoco di dio ma che cazzo di problemi ha questa gente addio mi sto agitando mi sto agitando non è cosa buona è giusta adesso comunque parliamo del finale così mi tranquillizzo più o meno il finale allora praticamente lui bevono insieme da lì lo guardo per dire ma che cazzo è questo gli devo tagliare la testa subito però me lo devo lavorare prima bene perché se lo faccio fuori adesso giustamente gli altri 15 mi saltano addosso quindi giustamente non posso affrontarne 15 da solo devo giocarmela bene ma lo guardo perché questo è scemo questo è pazzo ma che cazzo è questo devo stare attento me lo devo intortare bene se no questo qua mi brucia la progenie comunque c'è questo questo falò ecco che mangiano roba non loro ecco la cosa strana la cosa proprio che è veramente ti fa pensare che sono dei pazzi che pensano di star combattendo una guerra quindi noi dobbiamo capire che cosa ha innescato questo perché loro credono davvero di star combattendo una guerra come esattamente in this gone l'esercito pensava di combattere una guerra contro infetti ma qui invece la guerra è contro a quanto pare contro tutti i superstiti sopravvissuti che non la pensano come loro fantasia zero però vabbè però dobbiamo capire che cosa ha innescato questa sete di sangue contro Meghie e la sua gente spero che ci daranno delle spiegazioni devono darci delle spiegazioni perché dobbiamo capire che cazzo è successo io ho anche una mezza teoria che magari sia stata tutta una manipolazione di pop sarebbe bellissimo se ho manipolato tutti soltanto per fargli credito di star combattendo una guerra quando in realtà era solo guidato dal suo fanatismo potrei volare potrei volare comunque staremo a vedere c'è questo farò in cui tutti mangiano cane attaccato alla cagna maledetta veramente questa cosa la trovo assurda perché il cane è fedele fino a un certo punto cioè è assurda questa cosa che sei tornato subito con lei questa è una cosa assurda comunque sia arrivano pop e daryl pop gli dice a lia che aveva ragione su di lui e c'è questo ragazzo che è quello sopravvissuto e che ha riportato il cadavere di quell'altro morto e pop lo guarda e tutto quanto però non è molto convinto di quello che è successo si si è fatto 15 km con il colpo del fratello proprio in papera però non è molto convinto le ferite sulla schiena non lo convincono proprio in papera infatti dice questa frase anche a daryl le persone non le sentono di scappare quando sono spaventate tu ne sei qualcosa vero ma minchia lì mi hai raccontato tutti i cazzi tuoi a questo ma porca di quella ma veramente siamo seri vabbè vabbè visto che non la porto padre e figlia ci sta appunto poi prende questo ragazzo e tu dici un po' di cose senza senso sempre sulla realtà dei fratelli poi sempre sul fatto che Dio non usa il fuoco solo per le mie emizioni ma anche per la sua ira e spinge questo povero ragazzo nel fuoco lo tiene proprio schiacciato e il ragazzo muore bruciato tagliate subito la testa a questo pop ragazzi perché siamo di fronte all'ennesimo dittatore che tiene in scacco dei poveri sgazzati un miscuglio tra Negan e Alfa un pazzo dittatore visto che non avevano più idee hanno preso la follia di Alfa e la capacità di intortare di Negan e le hanno messe in questo soggetto perché appunto lì anche poi lì e Dary si guardano come per dire Dary guardano come per dire ma tu veramente dà la tua lealtà a questo qui e lei lo guarda come se non ho scelta è la mia famiglia e quindi devo seguire lui vabbè staremo poi a vedere che cosa succederà nel prossimo episodio nel quinto episodio appunto Dary non comparirà ci saranno altre storyline ovvero ancora Maggie Negan e Aaron Carol e company ad Alexander e anche il Commonwealth ve lo dico perché io ad oggi l'ho già visto sottotitolato quindi di conseguenza devo dire che questo quarto episodio è stato gestito bene è stato meno peggio di quanto pensassi perché io veramente avevo già pronti i porcoli per lui ma qui me ne sono veramente potuti risparmiare perché ha gestito davvero bene la situazione quindi io faccio un appello a sti cazzi di sceliggiatori smettete di far fare il gregario a quest'uomo perché quando è da solo e ragiona con la sua testa porca puttana lavora bene basta farlo fare il gregario Rick non c'è più quindi basta farlo fare il cagnolino del leader di turno e prima di Michonne e poi di Maggie e basta fatelo ragionare con la sua testa fatelo essere sempre così porca ripotana basta farlo essere un fottuto gregario devono smetterla perché quando non lo fanno essere un gregario un porca puttana quell'uomo torna a essere il Daryl di cui tutte più o meno ci siamo innamorate ma quando lo vediamo fare il cagnolino o di Michonne o di Maggie ci incazziamo e questa la Kang forse dovrebbe far fare due domande ma quella donna tanto non gliene fotte un cazzo perché tanto la gente continua ad amare Daryl e a giustificarlo tranne noi perché noi siamo più brave qualunque cosa faccio dice che cazzo me ne frega a me e questo è sbagliato perché tra un po' c'è lo spin off quindi se non me lo sistema come si deve prima dello spin off lo spin off non se lo guarda nessuno neanche io lo guarderò a piangere neanche a piangere in cinese comunque niente ragazzi devo dire che questo episodio non mi ha soddisfatto anche se è stato un po' troppo rapido forse avrei evitato tutta una parte tu solo con il mietitore avrei messo qualche magari ancora cosa di di Alexandria o o di Maggie e Nigan insomma avrei un po' alternato perché è stato tutto abbastanza anche rapido questa è una pecca che posso fare a questi episodi è stato tutto molto rapido tutto molto veloce e questa è sempre una cosa che c'hanno siccome devono gestire la parte del commonwealth questa parte giustamente la stanno trattando con la prescia e della senza stronzata che hanno fatto alla fine della decima visto che sono stati dieci episodi senza fare un cazzo hanno velocizzato tutto negli ultimi negli ultimi sette tutto finito di fretta e questo è un vizio che si devono veramente togliere perché non se ne può più non se ne può più quindi io sinceramente avrei reso il tutto un po' meno veloce e avrei alternato un po' con altre storyline però vabbè doveva essere di riconcentrico perché sapeva che l'avrebbero guardato tutti quindi figuratevi hanno spremuto la gallina dalle uova d'oro ecco diciamola pure così ma va bene perché comunque l'episodio è stato gradevole è stato abbastanza interessante un po' rapido un po' un po' così un po' sempre dedicatemi a me non me ne frega proprio un cazzo sono gli ennesimi fanatici un miscuglio proprio un miscuglio tra Negan e Alpha cioè proprio fantasia zero hanno preso ispirazione dal colonnello Garrett di Days Gone vabbè ragazzi comunque non ci lamentiamo sicuramente un episodio che veramente non mi aspettavo che mi soddisfasse anzi avevo già pronti i porconi come vedete invece mi ha soddisfatto quindi mi accontento va bene così adesso aspettiamo di vedere come gestiranno questo arco narrativo e spero a Dio che lo facciano bene bene anche questo video dedicato a The Walking Dead si conclude qui io spero che vi sia che vi sia piaciuto vi ricordo come sempre che in descrizione trovate il link della pagina Facebook Kelly d'Italia dedicata a The Walking Dead stasera mercoledì alle 21 saremo in live quindi se volete interagire con noi proprio dal vivo e magari farci fare qualche domanda insomma vedere una cosa un po' più realistica un pochino più naturale riguardo a questo episodio venite appunto stasera alle 21 salvo imprevisti comunque seguitemi su Instagram che io tanto vi aggiorno sempre oppure direte la sezione community il link lo trovate anche nelle schermate finali del video quindi vi aspettiamo appunto anche il mio Instagram dove tengo sempre aggiornate appunto sia sulle attività qua sul canale che anche su Kelly d'Italia vi ricordo che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice su fatemi sapere voi nei commenti che cosa avete pensato di questo episodio se la pensate come me oppure se c'è qualcosa che non vi ha convinto se invece a voi è piaciuto da impazzire fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti in maniera educata e civile ragazzi vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti ma ma perché non ti rendono sempre così perché ci vuole tanto a renderti autonomo perché non ti rendono sempre così bello cioè veramente perché facciamoci signore della croce speriamo bene ragazzi speriamo nella risurrezione di Daryl perché sennò qua altro che San Marco altro che Porconi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti